Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale Feiri ASMR Benvenuti anche in questo nuovo set che ancora, come potrete intuire, tutto da completare Bene, oggi sono qui per portarvi un video ASMR, chiacchieriggio Quindi con il suono della pioggia in sottofondo che spero vi piaccia e che vi rilassi Voglio raccontarvi un po' di novità e soprattutto visto che questo è il primo video chiacchieriggio del mese di dicembre Saludare e ringraziare tutti gli abbonati al canale Come al solito ti consiglio di indossare le cuffie o gli auricolari per rilassarti al meglio e di distenderti in un posto comodo Ah, tra l'altro se volete contribuire all'allestimento del set, giù in descrizione trovate la mia lista di desideri di Amazon Nella quale ho inserito un sacco di oggettini che ho in mente di mettere qui alle mie spalle Quindi date un'occhiata se volete prendere qualcosa e contribuire appunto anche voi Detto ciò, questo video è in collaborazione con Meditopia Che cos'è Meditopia? Meditopia è un'applicazione per il benessere mentale Mettiamola così È un'applicazione secondo me molto interessante per gli amanti dell'ASMR Perché può aiutare le persone a rilassarsi ma non solo Adesso io magari cercherò di mettere qui a schermo il funzionamento dell'app per farvi vedere un po' di che si tratta Comunque è un'app scaricabile gratuitamente e funzionante sia su Android che iOS Appena farete il login vi chiederà di scegliere tre priorità Tre aspetti della vostra vita che vi piacerebbe migliorare Potete scegliere per esempio tra la qualità del sonno Il disturbo dell'ansia da controllare Il miglioramento delle prestazioni Anche il miglioramento delle relazioni E il benessere fisico Dopodiché in base alle vostre scelte L'applicazione vi suggerirà alcuni percorsi di meditazione Che potrete appunto utilizzare quotidianamente In ogni momento della giornata Cioè praticamente una meditazione per ogni cosa Io ad esempio l'ho utilizzato Prima di una giornata molto importante La sera avevo qualche difficoltà a dormire persino con i video ASMR E visto che come sapete sto facendo un percorso dedicato al live coaching e soprattutto alla mindfulness Volevo proprio ascoltare qualche meditazione guidata che potesse aiutarmi a prendere sonno E diciamo anche ad essere un po' più consapevole In modo da affrontare la giornata successiva con serenità Ho trovato super interessante soprattutto la parte dedicata alle relazioni Cioè ci sono dei consigli che vengono dati Per aumentare il vostro grado di consapevolezza Delle aspettative che avete nelle relazioni E anche per aumentare la consapevolezza Delle aspettative degli altri Quindi l'ascolto È un aspetto che per me è davvero molto importante Ed è anche un aspetto sul quale mi concentrerò Mi sentirete parlare probabilmente nelle prossime settimane In ambito mindfulness Quindi dicevo una volta impostate le priorità Avete la possibilità di scegliere diverse meditazioni guidate C'è per esempio compassione, basi, respirazione, sonno profondo Poi ci sono delle azioni rapide Per esempio alcune sfide come fai tre meditazioni in una settimana Poi altre che si sbloccano man mano Secondo me questo risulta un po' come un percorso di personal training in palestra Solo che riguarda la nostra mente Poi c'è uno spazio dedicato agli appunti Oggi mi sento E ti fa selezionare lo stato d'animo E poi c'è uno spazio che si chiama ispirazione Dove praticamente ci sono delle frasi motivazionali Se avete acquistato la mia agenda smr Che tra l'altro trovate sempre giù in descrizione Su Amazon Sapete quanto per me sia importante questo tipo di impostazione C'è una sezione dedicata alle cose da scoprire Dormire bene, sonno profondo Ridurre lo stress E ritrovare se stessi Poi ci sono degli audio da ascoltare per dormire Musica rilassante Vi ricordo quindi che scaricare l'applicazione è totalmente gratuito Dopodiché inizierà una prova di sette giorni In cui avrete la possibilità di sperimentare l'app in tutte le sue forme E dopo questi sette giorni potrete decidere o di investire l'abbonamento Oppure di continuarlo E a quel punto sarà il pagamento Spero che vi abbia fatto super piacere conoscere questa app Io ringrazio nuovamente Meditopia Mi raccomando cliccate sul link che vi lascio giù in descrizione per scaricarla Spero che vi abbia fatto super piacere che vi abbia parlato di questa applicazione Io ringrazio ancora Meditopia per la collaborazione che mi ha offerto E vi ricordo di andare giù in descrizione dove trovate il link per scaricarla direttamente E iniziare la vostra prova gratuita di sette giorni Ma adesso veniamo ad un altro argomento Come vi dicevo questo è il primo video chiacchiericcio del mese di dicembre Quindi sento urgentemente la necessità di ringraziare tutti 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 gli abbonati al canale Trovate i loro nomi scritti giù in descrizione Tra l'altro sono proprio tante le persone che questo mese Hanno scelto di supportarmi con una piccola donazione Quindi grazie davvero di cuore E in particolare voglio salutare gli abbonati dal livello 2 in poi Come ho promesso già dall'inizio Allora faccio quindi un saluto speciale a Marco Tavarni Marco Tavarni Fraffo Udo Morna Romina Bisio Marco Lazzetera Luca370 Mers Greta Pitanti ASMR Northwind Showcase Daniele Tuffolonna E Pietro Perno Grazie mille di cuore a tutti voi Vi ricordo che se per caso avete voglia di supportare il canale potete farlo anche in questo modo Quindi tramite un abbonamento mensile che potete decidere di rinnovare o meno ogni mese liberamente Adesso un'altra cosettina che riguarda una persona di voi Che tra l'altro è una persona che è anche abbonata al canale quindi l'ho appena nominata Si tratta di Greta Pitanti Devo a tutti i costi ringraziarla ancora una volta perché Greta Pitanti è una ragazza dolcissima, bravissima Ma soprattutto una professionista super preparata Che mi ha aiutata molto nella preparazione di questa sala studio Lei è un'architetta e io vi lascio giù nell'info box anche tutti i suoi recapiti per contattarla Perché ha realizzato per me un progetto relativamente a questa stanza studio Dove in questo momento sto registrando Che è davvero perfetto per le mie esigenze E in realtà penso di ricontattarla ancora per chiederle se ha senso fare una piccola modifica Che mi è venuta in mente Comunque diciamo che il più del progetto è stato fatto Lei è stata così gentile da aiutarmi gratuitamente Offrandomi tutta la sua preparazione, la sua disponibilità E grazie Greta davvero Se avete bisogno di un architetto super preparato Che magari vi aiuti nella disposizione del vostro mobilio In una stanza o cose del genere Vi consiglio di contattarla Vi lascio giù nell'info box tutti i suoi riferimenti Nel frattempo ho notato che mi piove in casa Quindi questo non va molto bene Ma cercherò di risolvere il prima possibile Soprattutto penso spostando questi tipo di microfoni Perché non credo valga la pena di metterli a rischio Ma veramente mi piove su una gamba ragazzi Detto ciò ho veramente un sacco Un sacco Un sacco Di novità Forse quella più stramba È il mio nuovo piercing Alla lingua Non so perché io dica nuovo Perché non ne avevo di vecchio In realtà questo è il primo e unico piercing che ho fatto Ed è anche l'unico che credo mi piaccia Da portare su di me Chi mi segue su Instagram già lo sa Ho fatto il piercing alla lingua appunto Alcuni giorni fa Devo dire che non è totalmente guarito ancora Anzi la guarigione sta impiegando un po' Mi aspettavo una convalescenza un po' più semplice Però l'ho voluto quindi me lo tengo E per il momento sopporto diciamo i piccoli fastidi che mi sta creando Non essendo ancora del tutto guarito Voglio sapere se siete curiosi di questa esperienza Perché nel caso mi piacerebbe molto parlarvene Magari non in un video ASMR Ma in un video normale Ho registrato anche qualche breve clip In cui vi racconto l'esperienza diciamo accanto E magari potrebbe essere utile per qualcuno che sta cercando informazioni Sapere anche qual è stata la mia esperienza Fatelo sapere qui sotto Perché nel caso cercherò di capire Se farvi un video direttamente su questo canale Oppure se spostarlo nel mio nuovo canale Eh sì perché sto aprendo un nuovo canale Ho voglia, tanta voglia di fare insieme a voi questa nuova esperienza Pur non avendo ancora contenuti pubblicati Vi lascio il link sempre giù in descrizione Mi raccomando ovviamente andatevi a iscrivere Ah e altra cosa Non ve l'ho ricordato all'inizio ma È superfluo che ve lo dica Vorrei ricordarvi di iscrivervi se non lo avete ancora fatto anche a questo canale E quindi schiacciare il pulsante iscriviti E ovviamente attivare la Campanilina Per non perdere i prossimi video rilassanti Questo video è un frullato di chiacchiere E sicuramente riuscirete a sentire dalla mia voce un po' di emozione Perché tanti cambiamenti stanno manifestandosi piano piano E a parte questo disagio della pioggia Che è del tutto inaspettato Direi che i cambiamenti siano per lo più positivi Infatti da Natale Chi ha acquistato l'agenda SMR Lo sa Ci sarà una grossa 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 sorpresa Per tutti voi Che riguarderà sempre il mio percorso Come educatrice mindfulness O facilitatrice in mindfulness Che è il titolo vero e proprio Dell'attestato che ho conseguito Rimanete sintonizzati perché Penso che vi farà molto piacere anche ricevere Questo regalino Diciamo E altro dirvi Spero che mi seguirete nelle prossime avventure Spero che completeremo al più presto questo set Mancano Una Due Due luci Una pianta Che ho scelto La targa di youtube Che devo ancora attaccare A me comunque piace tantissimo Anche se vorrei trovare Un metodo per camuffare un po' questi cavi Però Devo ancora ragionarci Nei prossimi giorni vorrei anche mostrarvi Una specie di home tour Della vecchia casa Per poi passare Ad un home tour Della casa nuova Che ancora purtroppo ragazzi è in allestimento Quindi non la vedrete perfetta Però magari Non lo so Mi potrete dare qualche consiglio Su come arredarla Al meglio Su come organizzare Gli spazi Che ancora non sono stati organizzati Io continuo a ringraziare Infinitamente Greta Per L'arredamento Di questa stanza La disposizione Di tutti i mobili Grazie Grazie Infinitamente Vorrei che questo video durasse Molto di più Però Effettivamente Mi rendo conto Del fatto che Sta piovendo E che voi Sentite la pioggia Ma soprattutto La sento io Cavere Qui dentro casa E che questo non sia proprio Il massimo Quindi Vi lascio L'appuntamento Al prossimo video In cui scarterò Dei regali Di Natale Questi tra l'altro Sono dei regalini Che mi avete fatto voi Proprio scegliendoli Dalla lista di Amazon Quindi grazie E Ce n'è uno Che devo Assolutamente 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 Aprire Con voi Perché Fa parte di un upgrade Del canale Per Gentile Concessione Di Marco Lazze Grazie di cuore Marco Se mi seguite Anche su Pico Dove Faccio un sacco Di live Ogni giorno E se non lo fate Vi consiglio Di scaricarvi L'applicazione Pico Live Sicuramente Avrete visto In diretta La mia emozione De ricevere Tutti i vari Regalini Bene Detto ciò Vi saluto Sposto i microfoni Li metto In sicurezza E naturalmente Vi auguro La buonanotte Sperando di Vederci Molto presto E appunto Come al solito Noi ci vediamo Se più Nel prossimo Di Pico Prima Tosi Ciao Buonanotte una notte